Il ruolo dell'architetto è un lavoro abbastanza deprimente essere architetto, la cosa principale secondo me è quello di fare qualche cosa con il cuore e il cuore viene prima del cervello e la passione viene prima del cuore e del cervello. Basta pensare al cinema e è fatta, un film come Pulp Fiction è la più bella opera d'architettura del mondo. Il cinema è tutto, in più è il movimento, puoi fare qualunque cosa, fai tutto, fai l'architetto, fai il musicista, fai il poeta, fai il pittore, fai tutto, perciò non c'è niente di meglio. Lavorare in Italia è molto bello ma è molto difficile, non ci sono tempi, in Italia si può lavorare ed è straordinario però si sa bene o male quando inizia un cantiere ma quando finisce nessuno te lo garantisce. Però in Italia c'è il design che è straordinario, ecco, il design, per esempio questa cosa di Venini è una cosa appassionata, è una cosa che ti trascina. A noi piace l'anti-design, cioè le cose poco disegnate, la stessa cosa che vale per l'architettura, cioè oggetti un po' quasi come sculture. L'unico edificio, l'unica cosa che abbiamo fatto in Italia, che ha avuto un inizio, una fine ed è stato straordinario, cioè è durato due anni, è la Fiera di Milano, un edificio che avrei visto che è lungo un chilometro e mezzo, quindi due anni per realizzare tutto quello, però è stato, credo, l'unico esempio in Italia. Quando progettai la Fiera di Milano, che è un milione di metri quadrati, in pochi mesi lo progettai, lo costruimmo in 26 mesi, con questo asse centrale di vetro e cristallo praticamente di un chilometro e sei, non pensavo mai che avrebbe potuto accogliere praticamente il Salone del Mobile, e il Salone del Mobile ha 300.000 visitatori al giorno. Questo è il mestiere dell'architetto, è preparare i luoghi dove la gente va, i flussi, gli aeroporti sono i flussi delle persone, sono i flussi dove la gente entra e scompare poi negli aerei e poi non esce più, no dagli aerei, dai luoghi. È un mestiere che può essere anche divertente, ma il regista è meglio. Il regista che mi ha più influenzato è Hitchcock e l'altro è Kubrick, però se uno pensa all'avventura di Antonioni, non è male, rivisto oggi in bianco e nero con questi grandi spazi dell'Eur, però l'avventura o l'eclisi, non mi ricordo quali dei due, che era straordinario, e questi luoghi che sono, sembra un viaggio, infatti Monica Vitti a un certo punto dice sto facendo un viaggio all'estero, fuori dall'Italia, e stava semplicemente a un Euro, a una periferia, in una periferia romana in costruzione. Basta, ciao.